ciao a tutti ragazzi allora oggi siamo qua per l'unboxing del barbie barca dei sogni o dream bot allora questo sarà l'ultimo unboxing dei regali di natale che faccio perché ragazzi per favore non me li chiedete non veramente tempo di fare video però questo qua ci tenevo a mostrarvelo perché me l'avete richiesto in tanti quindi eccolo qua però per i regali di natale questo è l'ultimo unboxing se volete vedere gli altri vi invito ad andare a vedere il video i due video che stanno un po più giù allora partiamo dal dream bot questa è la barca dei sogni che contiene 20 e più accessori ed è 110 x 40 cm qui possiamo vedere una panoramica il logo barbie dream bot qui scritto in variate lingue ci dice che cosa vabbè che ci sono cucina allora vediamo sì c'è l'italiano qui ci dice bagno terrazzo piscina cucina camera da letto e salotto quindi ci sono sei aree da gioco sulla parte superiore troviamo la scritta barbie dream bot questo bellissimo sfondo rosa delle spiagge di malibu bellissimo qui tutti gli accessori anche qua ce li dimostra nei dettagli e sempre questo sfondo bellissimo che mi piace un sacco girando la scatola possiamo vedere di nuovo la scritta sei aree di gioco barbie dream bot un'immagine di come possiamo assemblare i personaggi nella casa eccola qui qua abbiamo una panoramica ampia e niente adesso andiamo a vedere la casa né c'è la barca nei dettagli allora eccola qua è veramente stupenda ed è molto più grande di quanto mi aspettassi allora qui al piano superiore al centro guida abbiamo questi due sedili e uno sterzo rigorosamente brandizzato barbie molto bello anche qui ritroviamo la scritta barbie questo è stupendo questo piano della guida qui abbiamo anche le scale per farle scendere e salire poi davanti è fatta in questo modo dove abbiamo questa parte qui rosa un salvagente arancione incluso qui è in questa parte qui il legno è veramente deliziosa questo è un lettino per riposarsi che si può anche girare poi ci sono tanti accessori che vi mostrerò dopo qui abbiamo il piano della cucina che si può anche alzare e diventa un lavello vedete sotto abbiamo la cucina il televisore è veramente carinissima vedete dall'altro lato girandole praticamente uguale a questo solo che manca il salvagente ovviamente si può estendere collegando questa parte qua dello scivolo che vedete fatto in questo modo alla piscina che scende giù vedete quindi si può ampliare questo si toglie e si mette facilmente e sotto si collega appunto la piscina per farle scivolare da qua ovviamente va fissato meglio io qui non ho molto spazio per farvi vedere bene però io ho reso un po l'idea adesso vi mostro gli accessori ovviamente abbiamo immancabile le istruzioni poi c'è questa bellissima radio un tavolino con cucchiai e forchette che ho lasciato qua ma ci sono e poi poi abbiamo un paio di pinne azzurre per fare immersione in acqua poi abbiamo del dentifricio rosa vedete poi avvio come animaletto abbiamo questo delfino viola molto carino squiscioso qui sulla parte finale della coda e un mini cucciolo è proprio piccolino poi abbiamo una bibita continuando con gli accessori abbiamo questa maschera per immersione molto bello questo colore una fotocamera per riprendere appunto quello che succede sott'acqua dobbiamo rompere le palle anche i pesci inutili non hanno un po di privacy poi abbiamo due piattini di questo colore rosa molto bello una ciotolina per far mangiare il nostro cucciolo e questo che boh non ho capito che cosa sia non ho capito questo cos'è forse un bagno schiuma non lo so poi come ultimo accessore abbiamo questa asciugamano eccola qua quindi questi sono tutti gli accessori che escono in dotazione e io ve lo faccio rivedere bene nei dettagli vi faccio un'altra panoramica ovviamente qua c'era lo scivolo all'interno vedete molto spazioso anche questa parte qui e per finire vi mostro i tre abitanti loro tre vivranno nella barca dei sogni e vivranno tante avventure in mezzo al mare lui saprete sapete com'è fresco questo in mezzo al mare comunque va bene io a vinci cari vi saluto mi do un bacione come sempre se due voli ci vediamo al prossimo video buone cose buon tutto e i love you